Benvenuti dal Casino Perra di Nova Goriza, questa sera sesta tappa prima del nuovo anno di queste Isob Season 2016-2017. Aspettiamo grossi numeri da questa sesta tappa, considerando l'Hotter Perra sold out e i 20 ticket assegnati, rispettivamente 10 nel free roll e 10 nel satellite. Alle mie spalle è lo striscione dell'Italian Poker Team che l'anno scorso ha partecipato ai campionati del mondo di Las Vegas. Durante questo evento uno dei momenti clou sarà la premiazione dei campioni d'inverno 2016. A trionfare in queste speciali classifiche sono stati Alessandro Vecchi, Player of the Year, Stake Jack, Campione Team e Carmen Marcuccio, Lady, Player of the Year. Mentre in pieno svolgimento il Day 1A, dove ricordiamo le chips di partenza sono 70.000, i livelli da 40 minuti e la late registration fino all'ottavo livello, alle 21 partirà il torneo di Omaca, 30.000 chips di partenza, livelli da 20 e 30 minuti, late registration fino all'ottavo livello. E nell'attesa che queste tre bellissime coppe vengano consegnate ai legittimi proprietari, vi attendiamo dopo per l'intervista al chip leader del Day 1A. Grazie a tutti!